Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui. Questa è una nuova nail art che ho pensato in questa settimana e ve la voglio presentare. Tutti voi sapete che per un po' avrò questa ricostruzione e che mi piace cambiare. Quindi questa volta ho fatto questa nuova nail art. Vi farò vedere con che cosa. Ho messo di base questo smalto che ho già fatto asciugare ovviamente perché i tempi sono quelli che sono. Io ho pensato di fare una cosa di questo genere. Con questo smalto d'oro dorato a pennello lungo, esco dall'inquadratura un attimo soltanto per sistemare lo smalto, partiamo dal centro, allora aspettate che gocciola, dal centro qui, dal centro dell'unghia, semmai vi fate un piccolo puntino e tiriamo due strisce così, due belle linee che vanno esattamente così, come una V. Andiamo fino alla fine dell'unghia, così, fino all'altro angolo. Adesso lo carichiamo un pochino di colore, partiamo e facciamo proprio questa V, così. Non è importanza se non si vedrà molto, l'importante è che la vediamo noi perché non è finita qui. Adesso facciamo ancora un'altra decorazione, facciamo ancora un'altra decorazione. Arriviamo fino in cima qua, a creare questa sorta di V e cerchiamo di darci una forma, ecco, più che altro, perché non è finita qui, perché così ovviamente non sta venendo bene, è soltanto per darci noi una forma. Approfitto di questo, come dire, umidiccio qui, per fissare già un brillantino che metteremo qui, proprio al centro, così, ok? Si vede? Si vede, ok. Quello che voglio fare è riempire questa V che abbiamo fatto, questa sorta di V che abbiamo fatto, con questo, con tutto questo smalto glitterato, super paillettato, così. Magari è troppo carico, ecco, si vede, e lo riempiamo tutto bene, tutto bene così, a fare una V perfetta, una bella V, sono sempre fuori inquadratura, una bella V perfetta, così. La riempiamo tutta con questo smalto paillettato. Certo, non è proprio una nail art per andare a fare la spesa, eh? Oppure sì, insomma, dipende dal vostro carattere, dipende come siete. Diciamo che è più una nail art eccentrica, tanto è vero che la chiamerò proprio così, nail art eccentrica 2, ok? Ecco. Questa è la mia idea di questa settimana, ve la faccio vedere, forse l'esecuzione non si è vista benissimo, però, come vedete, non è difficile, è anche molto semplice. Ripeto, abbiamo usato questo smalto per fare la base, abbiamo usato quest'altro smalto per fare le righe, per creare proprio lo spazio, e come ultimo abbiamo usato questo, super glitterato, sempre di Essence, l'abbiamo messo così, a V. Una volta asciugata, questa sarà una splendida nail art per avere delle unghie diverse, eccentriche e molto molto belle. Ovviamente su tutto questo, se volete, potete dare ancora un top shine, un top coat, un lucidante, in maniera da fissare ancora questo smalto. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, se questa nail art vi è piaciuta, votatela, iscrivetevi al canale e alla prossima nail art. Ciao a tutti!